ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sto registrando con un microfono incredibile questo non è il solito video in garage con i motorini eccetera ma è un video di gaming come ho detto nello scorso video avrei portato qualche gameplay per riempire i vuoti che si creano nel mio canale ad esempio in questo momento sto rifacendo il garage e non posso fare video in garage con i motorini quindi per non lasciarvi senza video ho deciso di portare questo nuovo format non vi preoccupate non sto abbandonando il mondo dei motori assolutamente questa è solo una cosa in più complementare ok di secondo piano quindi tranquilli tornerò presto a sporcare mille mani di grasso da quando è partita l'idea ci ho messo un po per organizzarmi perché ho dovuto comprare praticamente tutto dal microfono alla televisione alla play alla sedia al tavolo tutto tutto e per questo ringrazio i ragazzi di sever evolution che in tempi record mi hanno saputo aiutare e fornire tutto il necessario per partire con questo nuovo format senza di loro penso starei ancora a collegare i fili così quindi grazie 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 e ringrazio anche chi mi aiuta su instagram dopo questa breve intro che è servita per spiegarvi un po la situazione possiamo cominciare ma che cosa giocherò oggi a gta grande classico ma ma io non so giocare quindi penso vi farete qualche risata ora diventerò così piccolina e comparirò a play magicamente ok ci siamo quanto sono professional con questo microfono ragazzi direi di cominciare a mettermi le cuffie sono imbarazzante tutto poi che belle tette signorina dove va stasera con questo decoltè ok ragazzi spero che voi sentiate tutto bene che l'audio sia preciso e fatemi sapere insomma così nei prossimi video migliorerò le cose e niente partiamo allora usciamo di casa andiamo a prendere la mia bellissima macchinina mia macchinina mamma mia quanto sei bello allora gta io l'ho cominciata da poco quindi sono ancora all'inizio l'ho cominciata insieme a voi in diretta quindi chi ha visto la mia diretta sa dove sono arrivata se non avete visto vi consiglio di andarvi a iscrivere il mio canale sulla piattaforma viola che non posso citare così non vi perdete le mie dirette che fanno ridere perché ovviamente faccio un sacco di cazzate oh ancora non sono andata a sbattere oh non ho preso anche un palomo ancora ecco appunto aiuto no raga non ce la faccio ecco chi è visto la diretta appunto sa che i pali sono tutti miei e che non ne lascio neanche uno oh my goal my goal andiamo da quello ricco andiamo a vedere se ci sta la macchina ovviamente no però qua dovrebbe esserci la macchina che ho modificato l'ultima volta quella nera con i riflessi viola l'ho fatta bellissima cioè no no che cos'è quella dov'è la mia macchina cos'è questo chi è quella col culo di fuori ma chi è oh ma dov'hai ah non è la mia macchina questa ma non ce la neanche una macchina ma che ricco sei io non ce la vengo a una macchina scusa ma dov'è la macchina me l'ha presa mio figlio sicuro niente quella quella voglio quella vabbè pio questa oh guarda che cari no come rovinare una macchina vabbè dai muoviti oddio 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 ecco lo sapevo lo sapevo lo sapevo non date una supercar a me perché la sfascio allora ora vediamo dove devo andare vabbè prima passo al qua allora andiamo a customizzare la macchina ovviamente ho pochi so oh merda oh merda oddio santo cazzarola Michael mi dispiace sorry no che spari che spari no 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 sali in macchina una moto no voglio prendere una moto no 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 vabbè non sono in grado oh ok ce l'abbiamo fatta siamo arrivati vivi ridotta bene come nuova allora vabbè ripariamo il veicolo è la madonna marmitta maschi dai mettiamo colore principale panna porca vacca che bello no 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 adoro miniconne maschi metti metti mettiamo tutto visto che non posso farlo nella realtà lo faccio qui porca vacca ma è bellissimo metto metto non c'è soldi no giura ho finito i soldi guarda che bella cioè ma spettacolare spettacolare ok ora non devo sbatterla fino a che non arrivo a casa ce la farò che figata è ma è bellissima no 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 stronzo non mi venire addosso no ecco come sono riapparsi i 7000 macchine perché prima non c'erano dove andiamo in missione saltiamo via che bello merda shit oh ma guarda che mira sta macchina minchia porca vacca mi spiace di chiunque sia quella macchina vabbè andiamo da Franklin allora Franklin prima c'è questa mi sembra quella un po' più velocina qui in mezzo dai e dai e levati levati dove sto andando perché c'è una cosa perché c'è una cosa rossa che mi segue merda perché mi stavo sparando ma che volete da me non mi ha fatto niente vai vai enduro vai dai che sarà un graffietto ma va troppo lenta sta macchina ma che è nonno va in giro morbido il pavimento oh la moto prendi quella moto prendila ma cazzo ma svegliate però si ma io non va in giro sta merda scendi va oh grazie wow che parcheggio dritto neanche nella vita reale parcheggio così beh dai che insali forza dammi una alla metà che mi taglio le vene che odio la gente che non si sposta cioè sto passando io no scansati me sono che strada mo se mi stacca la macchina adesso mi incazzo di brutto oh missione completata wow andiamo a fare una missione seria stavolta ragazzi che franklin qua mica sta a perdere tempo eh due stelline oh merda vatti a nascondere direi come nascondiglio perfetto oh merda sono là va si stronzi c'era una moglie che stava a fare i fichi fichi adoro ah ci questo era il tennista ah sta cosa finita sta missione è bellissima oh adesso andiamo a distruggere la casa di quello doro il tennista se la passa bene che devo fa ah adesso facciamo crollare la terrazza raga questa è la mia parte preferita è la madonna che potenza c'è butta giù un balcone raga molto realistico tutto ciò wow oh meb ma dove stanno sti tizi ma come faccio ma non vado niente ok raga per oggi GTA finisce qui e spero che comunque vi abbia fatto ridere e vi abbia fatto piacere vedermi giocare anche se male molto male domani dovrebbe arrivare il mio regalo di compleanno perché la scuola settimana è stato il mio compleanno e i miei amici mi hanno fatto il regalo e deve ancora arrivarmi volrei fare un video e metterlo su youtube per farvelo vedere domani si arriva lo registro e arriverà subito un nuovo video per rimanere sempre aggiornati sulle mie sfighe venitemi a seguire su instagram che nelle storie le metto tutte come ho detto all'inizio sto rifacendo il garage quindi a breve quando lo avrò finito farò uscire il video della ristrutturazione e vi farò vedere bene bene come lo abbiamo fatto secondo me verrà bellissimo raga non vedo l'ora che sia finito e poi finalmente potrò montare il mio bellissimo albero RHQ malossi questo che vi ho già fatto vedere nello scorso video quindi se è vero siete perso andatelo a vedere subito 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 e niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao